Giornalista professionista dal 2017. Scrivo di notizie topici economici politici. Sempre stato interessato a questioni sociali e sportive. Ho fatto su Giuda Palermo. Dove sono nato e, per ora, tornato. Il 17 old che sparato a Giovan Battista Cicolo. Il musicista di 24 anni durante un combattimento a Napoli. Ma nell'interrogatorio con i magistrati. Il minore cercato di giustificarsi anche le sue responsabilità. Anche suscitato altri membri dei membri degli gruppo che l'ho fatto bene. Non volevo ucciderlo e non pensavo fosse si era allontanato. Giuro che non pensavo di averlo. Ai quartieri spagnoli le pistole vengono e arrivano come acqua fresca. Ma non era mio. Me lo hanno superato avrebbero detto di fronte agli investigatori. Secondo ciò che riportato da Repubblica. L'interrogatorio da ciò sarebbe emerso dall'intervista. Il 17enne avrebbe indicato gli pseudonimi di alcuni adulti che avrebbero partecipato alla lotta e sarebbero stati identificati anche grazie ai video delle telecamere. Uno sarebbe stato quello che avrebbe speso l'arma e chi potrebbe quindi essere accusata di competizione per. Mentre almeno un altro amico sarebbe stato indagato per una rissa. Era il doppio. Mi sono difeso non volevo ucciderlo. Avrebbe detto il minore durante l'interrogatorio. Sostenendo che non si era reso conto di averci colo e aveva sparato solo per difendersi per. Difendersi dal 24 year old. Ansa la madre di Giovan Battista Cicolo alla processione in onore del figlio con colpi di arma da. Fuoco avevo paura che potesse succedere qualcosa aggiunto il 17enne presola e sparato tre tiri. Ma non per uccidere. In effetti visto che era tornato e pensavo di averlo spaventato. Non l'ho fattoso di averlo. Quando l'ho scoperto sono rimasto cupo. Le parole dell'avvocato aspettando che giudice investigativo convalida il decreto detenzione emesso. Dal procuratore dei minori per aggravato e porto abusivo di arma. L'avvocato 17 anni Davide Piccirillo. Ha fornito una ricostruzione dei fatti una diatriba. È nata tra first party e gruppo del minore che. Rappresentano. Quindi altri quattro ragazzi sono intervenuti affrontando il gruppo in cui era lì il mio cliente. L'è stata fornita al gruppo. L'hanno trovata qualche giorno fa e volevano venderlo. Nella paura di essendo attaccato. Il mio cliente esplose colpi di. Il mio cliente fornito la massima collaborazione e ha aiutato la polizia a recuperare l'arma che era. Stata nascosta vicino alla casa spiegato l'avvocato. Il 17esimo anno accusato di aver il musicista Giovan Battista era già noto alla polizia la. Precedente e per tentato. Quando all'età di 13 anni ha accolto una persona durante un combattimento in aumento ucciderla. La parata dopo l'autopsia prevista per lunedì. Il corpo di 24 anni sarà affidato alla famiglia per il funerale. Il funerale di Giovan Battista deve essere il funerale della redenzione di Napoli. Chiedo tutti i musicisti di partecipare e il suo fascino chiedo Osimen ai giocatori del Napo.